E' veramente una delle prime grandi opere di riqualificazione che vorrei vedere terminata entro il dicembre 2023 come abbiamo previsto. Riqualificare un pezzo di quartiere come questo non significa solo andare verso un qualcosa che non sarà più così energivolo, ma significa ridare qualità e dignità a chi li abita e soprattutto trasmettere anche a chi li abita che queste cose poi vanno conservate, non tutto è scontato. Il fatto di vedere accanto a strutture come queste che sono di gestione dell'Aler e che Aler Milano parte a sprombattuto per sistemarle e vedere qua accanto altre strutture che sono passate dalla proprietà pubblica a quella privata così ben tenute significa che ce la possiamo fare anche in questa sfida. Via Bola era tristemente nota per l'occupazione abusiva e quant'altro, noi abbiamo approfittato di questo finanziamento regionale di 32 milioni, quindi andando a riqualificare il primo lotto che è questo che si può vedere qua di fianco dove ci sono 90 famiglie alle quali si dà una risposta in termini energetici perché utilizzando il super bonus del 110% noi riusciamo a mettere a nuovo praticamente facciato, serramenti, coperture e quindi diamo un salto energetico di due classi. Dall'altra parte c'è l'altro intervento che è quello più massiccio dove noi andiamo a demolire completamente 154 appartamenti per ricostruirne 156, cambiando completamente la tipologia di un edificio che era praticamente molto molto ammalorato e soprattutto quasi completamente occupato da abusivi. Partiranno i lavori a breve, siamo in fase di gara d'appalto, un intervento da 20 milioni di euro ed è un fiore all'occhiello perché rappresenterà per quanto riguarda il Milano dopo quasi 20 anni che non si costruisce più qualcosa di nuovo sulla città di Milano se non le strutturazioni sarà un intervento massiccio che porterà ad avere un edificio in classe A più.